In diretta dal Giro d'Italia, cari telespettatori, è l'Alienz Monte Zoncolan, tappa numero 17, tappa benissima, perché verrà scalato tra poco il cosiddetto mostro della Carnia, il Monte Zoncolan. Ragazzi, questo è lo Zoncolan. Versante Ovaro, e anche il gruppo Maglia Rosa comincia lo Zoncolan, Alessandra Specialetti in avanti. Sometimes it's faded, the sense of faded, the fear of growing up. Il forsic di Gilberto Simoni, il vecchio Gibo si prova alla sua ruota di Luca e poi Cunego, e poi Rucco. Gilberto Simoni guadagna qualcosa su Danilo di Luca. Due modi di salire differenti, sempre sulla sella, Gilberto Simoni vuole scandire un ritmo impossibile, qualcosa guadagna Simoni. Per la prima volta Simoni, dall'inizio del Giro d'Italia, riesce a guadagnare qualche metro su Danilo di Luca. Attenzione, Di Luca, Di Luca sui pedali, ma Cunego sta pedalando meglio. Di Luca sembra in difficoltà, Danilo. Di Luca, di Luca, di Luca, di Luca. Di Luca, di Luca, di Luca, di Luca, di Luca. Sta cercando di forzare Duomo e Di Luca, sta cercando di partire Di Luca del Simoni. Parte Gilberto Simoni, a ruota del suo compagno di squadra, Leonardo Pieco, 150 metri. Gilberto Simoni vuole concedere il bis sullo Zoncolan. Dopo il 2003-2007 lo davano quasi come pensionato Gilberto Simoni. È invece sempre un grande corridore. Can't stop growing old Can't stop growing old